Al Romeo Neri si trovano faccia a faccia le due squadre che hanno racimolato meno punti nel giurone di ritorno, 14 il Rimini, 7 il Fiorenzuola. In classifica i romagnoli sono decimi con 45 punti, gli emiliani tredicesimi a quota 39. I biancorossi vanno a caccia di una vittoria casalinga che manca dal 10 dicembre scorso, anche per vendicare l'immeritato K.O. dell'andata. Tre squalificati in casa Rimini, Biondi, Santini e Sandri. Gaburro deve rinunciare anche a Gigli, infortunato. In un Fiorenzuola, privo tra infortune squalifiche di ben 11 titolari, parte dal primo minuto l'ex biancorosso Sereni. Prima del calcio d'inizio è osservato un minuto di raccoglimento per ricordare l'allenatore Massimo Bobogori, che da giocatore è cresciuto nelle giovanili biancorosse. Al settimo cross di Averi, Cavalli mette fuori di testa, riprende l'Averone che allarga per Gabbianelli, che dallo spigolo dell'area lascia partire una conclusione deviata in angolo. All'ottavo secondo corner per i padroni di casa, Piscitella per Tonelli, che si sistema il pallone sul destro e mette in mezzo. Delcarro spedisce in rete di prepotenza, Rimini 1, Fiorenzuola 0, ottavo centro in campionato per il numero 8 in maglia scacchi e ottavo minuto ancora fatale i rossoneri. Al tredicesimo Averi riceve da Panelli, scambia con Piscitella, avanza, poi fa filtrare per Gabbianelli, che spedisce a lato. Una manciata di secondi dopo, rimessa laterale per gli emiliani. Panelli strappa il pallone a Gianni e serve alla Verone, il cui destro da lontano è neutralizzato in due tempi da Battagliola. Al sedicesimo Gabbianelli apre sinistra per Piscitella, che aggancia, sposta il pallone e lo mette al centro. Vano impatta di testa, Bondioli è lontana. La Verone recupera la sfera e va ancora alla battuta, Battagliola deve volare per deviare in angolo. Al diciannovesimo rilancio di Zaccagno, Bondioli colpisce di testa. Gabbianelli raccoglie il pallone, vede la sovrapposizione di La Verone e lo serve. Cross immediato per l'incornata di Delcarro, sfera che scheggia la traversa. Al ventunesimo Cavalli allarga sinistra per Oddi, che resiste a Gabbianelli e mette al centro. Colpo di testa di Gianni e pallone a lato di poco. Al venticinquesimo Tonnelli intercetta un passaggio errato di Donovaro e fa filtrare per Vano, che si ferma e serve Piscitella. Conclusione a giro, che finisce tra le braccia dell'estremo ospite. Al ventisettesimo corner di Piscitella. Delcarro tiene viva l'azione, toccando fuori aria per la Verone, il cui cross trova l'opposizione di testa di Bondioli. Delcarro prova a piazzarla, ma Battaglioli respinge. Al ventottesimo un errore di Panelli sulla mediana permette a Piscinini di recuperare il pallone. Poi Fiorini apre per Sereni, che si libera di Tonnelli e calcia, ma non trova il bersaglio. Al trentottesimo Pasa lancia Piscitella, che può andare all'uno contro uno con Potop. Poi mette in mezzo, Cavalli gli fa tornare il pallone sui piedi, il numero undici lo manda sull'esterno della rete. Al ventitresimo della ripresa Piscitella parte in velocità e serve Nera Gabbianelli. Tamponato da Quaini, per il signor Attaricone si può proseguire. La Verone rimette in mezzo. Tonelli insegue il pallone. Contro cross è colpo di testa di Mencagli, che manda alto. Al ventinovesimo rimessa laterale di Oddi. Quaini favorisce la battuta di Fiorini, che sfila lato. Al trentaduesimo Sereni, su punizione, chiama la respinta a Zaccagno. Fiorini recupera la sfera e serve nuovamente Sereni, che di sinistro mette in mezzo. Sponda di buon tempi per il colpo di testa vincente a due passi di Bondioli, che firma l'1-1 con cui, dopo quattro minuti di recupero, si conclude l'incontro. Subito dopo il triplice fischio, parte la contestazione dei tifosi biancorossi, che continuerà anche davanti all'ingresso degli spogliatoi. Nonostante il mezzo passo falso, il Rimini, che sale a 46, guadagna un punto sulle inseguitrici Re Canatese e Fermana, sconfitte da Olbi e Reggiana, portandosi a più tre sulle due undicesime, a due giornate dalla fine. Prossima per i Romagnoli in casa dell'Ancona.